Questo video riguarda i migliori tre giacche da snowboard. Il vincitore della qualità è il Barton Pro-West giacca. La giacca Barton Pro-West da donna coniuga tessuti e design alla moda con caratteristiche da motociclista per creare una giacca facile da vedere, in collina o in giro per il mondo. Una coda a goccia esagerata aggiunge stile e sigilla il freddo, mentre il tessuto dry ride impermeabile BL supera tutto quello che c'è nell'armadio. L'isolamento in termolite riciclata al 40% e il calore del pile scerpa all'interno del dorso a scatto vi faranno sentire avvolti nel calore. I pori superbi della nostra fodera si restringono o si espandono per trattenere o rilasciare il calore come un controllo automatico del clima. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Barton Covert. Accelerate Y Riding to the Mountain S Outer Limit with the premium fill a performance of the menesse Barton Covert Jacket. Doing what it can to help the planet, i termolite insulation i 40% recycled, a dentire jacket uno blusa in approved, to lighten the impact of both people at the planet. ABLA Plush Tech Taffeta Lining Ads S Warm Tabreatability for E-Comfort. Snowboarding S Proverbiali Pot of Gold, the Covert Jacket S Full List of Features Include the Pit Zips, a Rov-Eist Guiter to Block Cold As No, Plus P for Just About Everything. Il vincitore del premio è il Quicksilver Morton Giacca. Giacca da Snowboard da Uomo Caratteristiche principali Maggiore impermeabilità grazie alla tecnologia Quicksilver Dry Flight da 10K, tessuto semplice in poliestere, la vestibilità modern con punti articolati e taglio ergonomico assicura un look più asciutto e contemporaneo con la libertà di movimento di una vestibilità regular, isolamento in warm flight, grado warm flight, due terzi. Per un isolamento leggero e caldissimo è fodera in tricot spazzolato e taffeta posizionata strategicamente sul corpo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.